Notizia inaspettata quella di oggi, un'ultima ora Eros Ramazzotti da poco diventato nonno, la figlia Aurora gli ha dato un bel nipotino Cesare Augusto e adesso invece diventa ancora papà per la quarta volta. Pare infatti ragazzi che dai gossip più insistenti Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino starebbero aspettando un figlio, secondo quanto ricostruisce il settimanale Diva e Donna mentre stava diventando nonno Eros ha scoperto che la compagna era in dolce attesa, per lui si tratterebbe così del quarto figlio dopo Aurora, Raffaella, Maria, Gabriel, Tuglio e entrambi avuti con Marika Pellegrinelli. E Aurora ovviamente con Michelle Unziker. Al momento non è stata confermata la notizia dai due interessati, Dalila Gelsomino sul suo profilo Instagram ha condiviso diverse foto e nei post non ci sono segni evidenti di una pancia che starebbe crescendo, invece Diva e Donna nello scatto pubblicato poche ore fa si trova proprio in ascensore la bella Dalila con un pancino, un pancino davvero sospetto. Della notizia che ha pubblicato proprio oggi, Diva e Donna è vera e i due confermeranno, si tratterebbe come dicevo del quarto figlio per Eros ed è da poco diventato nonno. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale, io ti aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Bene, ti aspetto! Grazie.